stabilizzata sia dal fondamentalismo islamista di Al-Shabaab che dalla pirateria marittima a largo delle coste appunto della Somalia. Il trattato prevede degli oneri annuali di circa 5.000 euro ad anni alterni ed è un trattato che è in linea sia con la legge italiana sulle armi, la 185 del 1990, che con tutte le risoluzioni ONU che disciplinano le vicende della sicurezza e della difesa in un'area del mondo che è da circa 25 anni sottoposta a guerre civili e a conflitti armati di varia natura. Grazie. La ringrazio, rappresentante del Governo, immagino non intende intervenire, non essendovi attraisciti a parlare, la discussione sulle linee generali è chiusa. Non si darà luogo alle repliche, avverto che sarà presentata a norma nell'articolo 40,1 del Regolamento alla questione sospensiva, frussone ed altri, il numero 1 che sarà esaminata e posta in votazione prima dell'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Siamo adesso alla discussione di segno di legge e ratifica già approvata al Senato 3.461, ratifica ed esecuzione nell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Senegal. Il 17 settembre 2012, dichiaro aperta discussione sulle linee generali, e la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire rionalmente e sempre per la Commissione Affari Esteri, onorevole Elia Quartapelle Procopio che può intervenire. Grazie mille Presidente. Anche qui darei per letto la relazione. Si tratta di un accordo che regola la cooperazione in campo militare del Ministero della Difesa con la Repubblica del Senegal, ha l'obiettivo di rafforzare le relazioni di cooperazione in materia di sicurezza con i Paesi amici, appunto il Senegal, e dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. È un accordo i cui contenuti sono sostanzialmente omogenei a quelli dell'accordo con la Somalia di cui abbiamo trattato poco fa, ha degli onire economici di circa 5.000 euro ad anni alterni e anche in questo caso la Commissione auspica una rapida approvazione del disegno di legge perché tratta di un'area del mondo, quella dell'Africa occidentale, anch'essa sottoposta a forti tensioni relative in particolare al tema del terrorismo di matrice Z.